Seconda giornata di gare qui all'Adriatic Arena di Pesaro, campionati del mondo di ginnastica ritmica, conclusa la prima giornata che ci ha regalato una grande emozione, una storica finale centrata alla palla da Alexandra a Giurgiuculese, ma subito oggi si ricomincia. Ultima giornata di qualifiche, ultime due rotazioni con clavette e nastro, noi abbiamo un ospite d'eccezione, Marta Pagnini, storico capitano della squadra nazionale di ginnastica ritmica che chiaramente avendo smesso l'attività agonistica è qua nei panni ufficiali di commentatrice di questo splendido sport. Bellissima emozione per me essere qui a Pesaro a vedere questi campionati del mondo, bellissima emozione perché sono i primi campionati del mondo in Italia, mi fa piacere essere dall'altra parte della pedana, commentare la gara, guardare le nostre connazionali, gareggiare, contendersi addirittura le finali di specialità, oggi vedremo di nuovo Milena e Alexandra battersi per conquistare un posto nelle finali con clavette e nastro e attesissime le nostre farfalle in gara sabato e domenica, non vediamo l'ora di tifarle e di guardarle volare alto sulla pedana di Pesaro, come sempre d'altronde. E allora noi andiamo subito nella mixed zona per conoscere quali siano i primi risultati di Alexandra e Milena subito dopo la fase di qualifica. Ieri è stata la mia prima giornata di mondiali, ovviamente ieri ero un pochino più in ansia, oggi è stato molto meglio perché comunque mi sentivo, a parte che mi sento a casa perché comunque Pesaro è casa mia, come dire, però ovviamente il tifo è tutto, non era come ieri che è stata la prima volta, quindi ero più, come dire, ma non in ansia, avevo voglia di fare bene però ovviamente c'era dietro quell'ansia di paura di sbagliare, comunque oggi sono molto soddisfatta di quello che ho fatto perché, come avevo detto ieri, dopo l'errore si va sempre avanti ancora meglio, invece oggi ho cercato di non fare l'errore, di fare tutto per bene. Sono soddisfatta sia come è andata ieri, anche se il cerchio poteva andare meglio e oggi sono ancora più soddisfatta perché sono riuscita a fare due attrezzi senza perderli. Sì, ero diciamo molto più carica rispetto a ieri, che ieri ho rotto il ghiaccio e quindi oggi ero più concentrata, più attenta, infatti ho fatto veramente di errori zero e qualche piccola imprecisione, però sono molto contenta e più soddisfatta di ieri. Spero di qualificarmi al nastro, però in caso ho anche la qualifica delle 24 per domani.